Quanto sei orgoglioso del tuo disco in una percentuale che va da 1 a 10? Sì, io sono molto orgoglioso di questo disco, ho sognato un esordio del genere così importante da solista con uno staff così valido di persone che mi seguissero, tanta gente che credesse in me Io sono anche molto severo con me stesso e sono molto ambizioso Quello che per alcune persone può sembrare un punto d'arrivo per me è sempre comunque solo un punto di partenza Conoscevo questo ragazzo, si chiamava Nico, a scuola parlava poco, io lo trovavo fico Una mattina andavo in banca insieme a mamma e ho visto Nico entrare e calarsi il passamontagna Buongiorno gente, questa è una rapine, io sono l'ultima persona che vedrete nella vita A meno che non vi mettete faccia a terra a pecorina e sarà tutto rapido e indolore come una sveltina